Eccoli! J-AX e Fedez! Guardateli! Applauditeli! Eccoli qua! Cioè, voglio dire, no? Fantastici! E' aperto il tuo microfono? Buonasera! Ciao, rubana! Guarda, che entusiasmo, è bene che si fanno! E' figo! E' un po' di entusiasmo, raga! Ciao, raga! Io ti devo fare una cosa! Zio, quant'è la base? L'applauso forte! Adesso cantano, eh! E cantate con loro! Eccoli! Grazie a tutti! 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 Trovare un porto, tutto questo spantimento sempre forte il tramonto E poi sullo schermo un pianto non vedi quanto è profondo Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo Che non dà il giusto peso Quello che viviamo ogni ricordo è più importante condividerlo Che viverlo vorrei fare un posto E ancora un'altra estate arriverà E compreremo un altro esame all'università E poi un tuffo nel mare, nazionale un popolare La voglia di cantare tanto non ci passerà E facciamo un applauso per tutti gli organizzatori Centro e stile di arte Grazie alla regia Grazie alla giuria Un applauso a tutti ragazzi Grazie, grazie Allora c'era un presentatore prima? Sì, c'è ancora Grazie mille Grazie mille Grazie a voi Grazie mille Faremo Albano e Romina Ah ok Esatto Anche tra la Puccarini Insomma non guassa Esattamente ci sta Come procede quest'estate? Avete delle date? Sì, siamo in tournée da aprile Siamo girando tutta l'Italia Abbiamo fatto tante trasmissioni televisive Sono i vignoti Mi raccontavate Avanzi un altro Anche con Papi Su Sky Canale 8 Loro pure Abbiamo incontrato loro E ci hanno riconosciuti come sosia ufficiali Quindi ufficialmente Siete sosia di Fedez E Jax L'emozione forte? Quando li avete incontrati? Cioè mi rivedevo io Cioè Ero io Vabbè io Ma chi sei di Fedez? Ma sono io Fedez Posso dire una cosa io? Certo No perché vedo che sei concentrato su Fedez Lui eh? Ma sono genoso Zio 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 Posso dire una cosa? Io ho un mio figlio Che è tre anni Quando ha visto Ale Jax ha fatto Papà Non sapeva chi guardare Papà? Papà Cioè non ha capito niente E dopo? Ti ha riconosciuto come papà? Oppure ha scambiato? No no adesso vive con Ax Ah vive con lui? Assunto Penso senza figlio Questo è il bello della vita Questo è il bello della vita E' lui tuo figlio questa sera? No ma No No è con Ax Ah è con lui? Ma ti segui nei spettacoli? Sì 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 E' un tuo grande fan Certo Io per lui sono Ax su YouTube Su YouTube Fantastici No no gli auguri Che a lui e a me Fanno per strada Auguri Fanno gli auguri Per il suo bambino Sì sì Ma poi i bambini È bello bello Adesso stiamo usando Il figlio di Mitch qua Così Ah sì? In questa serie Che fa leone Lui ce l'ha qui il figlio In vacanza con lui Sì sì